Miss Serena Buongiorni! Applauso! Buonasera, buonasera Teatro del Moscerino, che bello essere qui stasera con voi amici e voi amiche della provincia. Allora, questa è un po' di spocchia di chi vive in centro Torino. Dunque, io sono contenta, devo ammettere, stasera sono contenta perché oggi facevo proprio una riflessione. Ma voi vi rendete conto, cari amici e amiche, qua del Pino Rolese, che abitiamo nel paese più bello del mondo? Nel paese più bello del mondo, dove si mangia benissimo, c'è la musica più bella, ci sono le radio più belle di tutte, ma soprattutto un paese che vive ancora di tradizioni, di storia, di porti sicuri in cui rifugiarsi quando si hanno dei problemi, quando si sta male, quei detti che però in realtà sono proprio tradizione. Ecco, nel mio caso, il mio porto sicuro è Dio, patria e famiglia grassofobica. Ecco, non so se anche voi vi siete resi conto, perché sicuramente tutti voi avete quel parente che scambia i pranzi di famiglia per una puntata di Ok, il peso è giusto. Ecco, ma soprattutto io sono sicura, sicurissima che in questo momento, proprio in questo momento, a Torino sta arrivando un treno, proprio proveniente dal paese del kit Sencula, carico di parenti pronti a improvvisarsi nutrizionisti sulle nostre tavole. Ed è per questo che io oggi vi voglio fornire degli identi kit per poter affrontare al meglio questi parenti. Di solito i parenti grassofobici si dividono in tre categorie. Il primo è l'indovino. Mmm, 7-8 chili in meno e staresti da Dio. Che 7-8 sono gli anni di carcere che si meriterebbe per essersi macchiato dell'orribile crimine del Non te l'ha chiesto nessuno! Il secondo... Il secondo, invece, è il paraculo. Hai un bellissimo viso. Peccato che... Che insieme a ho tanti amici gay e non sono razzista, ma compone la trinità della religione degli stronzi. L'ultimo, l'ultimo però devo dire che è un po' il mio preferito, E' l'illusionista. Cioè quello che ti fa sparire tutti i piatti più buoni dalla tavola e che dice che lo fa per te. Un po' come quando tuo padre ti menava da piccolo in pubblico e diceva che lo faceva per il tuo bene. Più o meno la stessa cosa. Ecco, nel mio caso, la parente grassofobica era Ziatina. Ziatina però era così cattiva che non è inclusa in nessuna di queste categorie. Una sorta di premio strega del male. Un premio a parte. Ecco, mia zia era così cattiva che se avesse scritto un libro, però sicuramente lo avremmo trovato nel carrello Amazon Acquisti di Hitler, più o meno. Proprio come ispirazione. Mia zia odiava tutti. Odiava tutti. Ebrei, neri, musulmani. Almeno su questo era molto inclusiva. Ecco, immaginate, non lo so, fosse stato per lei, avrebbe creato una sorta di squid game delle minoranze. Quindi una stanza in cui buttare tutte queste persone e lasciare che si uccidessero gli uni con gli altri. Però poi avrebbe avuto un attimo di magnanimità e quindi ne avrebbe salvato uno. Per uccidere poi lei stessa con le sue mani e creare carte da parati per la sua casa a Portofino. Ecco, ho detto però una castroneria. Perché mia zia odiava tutti tranne gli omosessuali. Perché gli omosessuali per lei non esistevano. Ecco, che poi lei diceva che non esistevano perché diceva di non averne mai visto uno. Che detto da una che va in chiesa a pregare tutte le settimane è abbastanza curiosa come affermazione in realtà. Ecco, ma più di ogni cosa al mondo mia zia Tina ce l'aveva con la mia pancia. Cioè il pensiero che una donna della grande famiglia Bon Giovanni potesse essere grassa proprio non le andava giù. E me lo faceva notare. Ogni volta che poteva me lo faceva notare. E la prima volta che mi ha proprio fatto capire questa cosa è stato un Natale di circa 15 anni fa. Eravamo a tavola, ce l'ho io con i miei cugini. Io ho 15 anni, i miei cugini 18 e lei si presenta con tre regali. Per loro due scatole di cioccolatini, per me è un buono per la nutrizionista. Ok, ce l'abbiamo tutta questa vibes, no? Cioè quanto devi essere un po' cattivella. Cioè ma come puoi pensare di regalare dei cioccolatini a dei diciottenni? Sei una zia, la zia regala i soldi, non i cioccolatini. Per quanto invece riguarda il buono della nutrizionista, ammetto che non è stato facile. Ammetto che ho dovuto un attimo pensare a come utilizzarlo, che ero anche un po' imbarazzata. Però poi ho chiesto ad amici, parenti, mi sono fatta coraggio e ho imparato come usarlo. E adesso faccio dei filtrini per le camme da paura. Grazie, grazie mille veramente. Grazie, grazie a zia Tina, che ringraziamo nell'alto dei cieli, sperando che rimanga lì per sempre. Ecco, no, io devo dire la verità, non ero molto popolare in adolescenza, non piacevo tanto le mamme delle mie amiche. Infatti io avevo questa migliore amica di 13 anni, super fregna, la cui mamma le diceva sempre non stare troppo con Serena, sennò diventi come lei. Spoiler, grassa. E io ogni tanto penso, chissà cosa penserebbe questa madre a sapere che sua figlia ha dato il primo bacio a me. Not very proud, mamma. Not very proud. Quindi sì, ci piaceva un po' sperimentare, perché col genere maschile non eravamo tanto così, diciamo, fortunate. Però io mi divertivo, mi divertivo abbastanza a scuola, cercavo nel mio di fare delle cosine. Per esempio, vi ricordate i collettivi? Cioè i momenti di autogestione a scuola in cui si occupava la scuola e si facevano tutti questi corsi e dove la gente stava insieme per socialità, per aprire nuovi dibattiti. Non è vero, quei corsi che si facevano semplicemente per rimorchiare quello della terza C. Ecco, anche perché oggettivamente, no? Chi è che va a seguire la conferenza sulle donne marocchine, sulla loro integrazione nel quartiere Vanchiglietta di Torino? Dai, io no. L'ho organizzata direttamente. L'ho organizzata io, eravamo in tre. Eravamo io, Labidella e Iacari. E la mia ultima possibilità di avere un rapporto sessuale entro i 25 anni, che è rimasta in quell'aula, tra l'altro. Ecco, ma quindi cosa può succedere a una ragazzina quando viene vessata a scuola, quando viene vessata in famiglia? Può succedere solo una cosa. Diventa una bulla. Ecco, la mia grande carriera da bulla è durata quattro giorni, quando alcuni ragazzi di Quinta, quindi più grandi, ragazzi cool, mi chiedono di uscire con loro. Fighissimo. Aggiungono però che c'era una prova da superare. Ecco, però, quando tu sei una via di mezzo tra Ugly Betty e Renato Pozzetto senza tette, e quelli di Quinta ti chiedono di uscire, saresti anche disposta a strappare a morsi i denti a tua nonna e rivenderli sul deep web pur di uscire con loro. Quindi non avevo grossi problemi, ho detto, yeah, facciamolo, chissà che cos'è. E la prova consisteva nell'andare in Piazza Vittorio, mettersi in un angolo, aspettare la prima persona grassa in bici, insultarla e farla cadere dalla bici. Una cosa molto divertente. Molto, molto divertente. E io decido, tra l'altro io nella mia testa dicevo, se me lo fanno fare gli altri grassi forse perché non vedono che sono grassa anch'io. E quindi inizio a farlo, inizio a farlo, mi metto in un angolo, aspetto il primo malcapitato, lo guardo e gli dico, boom, fetes! E quello cade dalla bici. In realtà quello che volevo dire era, scusami persona sconosciuta, se sono così sfigata da pensare che questo sia l'unico modo per farmi amare da qualcuno. Ma era troppo lungo, quindi ho preferito insultarlo. Ecco, io però sono tornata a casa dopo quell'episodio e ho pensato, ma Serena tu non sei questa, cioè non ti appartiene, non ti piace, non l'hai mai fatto, non sei mai stata così. E quindi ho deciso di iniziare a fare il mio piccolo passo per cambiare il mondo. E in quel momento avevo una grande forza perché ero dentro quel gruppo di persone che ormai mi aveva inclusa, mi aveva accolta. Quindi sono andata da loro, li ho riuniti, abbiamo fatto un aperitivo e li abbiamo inclusi e ho detto, ragazzi, ma non funziona così, non funziona così. Siete solo figli di un sistema patriarcale che ci vuole tutti omologati verso la stessa discriminazione sistemica, verso le persone. Non è vero, ho semplicemente rigato la macchina a tutti quanti e me ne sono andata direttamente. Così, così, rigato. Io ho scoperto che adesso, dopo anni, questo gruppo di persone è ancora amico e si è ritrovato per fare una serata a tema, parliamo male, di Serena e del fatto che sia grassa. Storia vera. Quando l'ho scoperto ho avuto un po' la stessa reazione di come quando fumi la prima canna. Cioè, all'inizio sei un po' assordita, poi scoppi a ridere e poi capisci che vedere quella cosa bruciare ti darebbe tantissima soddisfazione. Tantissima soddisfazione. Ecco, oggi invece quelli che incontro sono altri tipi di persone grassofobiche, sono le persone, i grassofobici inconsapevoli. Quelli che non lo sanno, che si fanno un sacco di gaffa, non lo sapevo, tipo quelli che ti chiedono se sei incinta, così, non lo sapevo. E l'ultima l'ho incontrata a un corso di teatro, io ero sul palco, stavo facendo le mie cose e quando sono scesa lei mi ha detto «Sai, Serena», era una signora simpaticissima, forse qua di San Secondo, «Sai, Serena, tu sei proprio fortunata perché essendo grassa sei più simpatica». Ok, allora, io non sapevo che ci fosse una raccolta punti dell'esse lunga, tipo un chilo, un punto simpatia. In questo caso spero di ritirare il premio direttamente dalle mani di Anna Marchesini, anche se non c'è più, ma non credo funzioni esattamente così. Quindi l'ho presa da parte e le ho detto «Signora, guardi, mi ha detto delle cose che non funzionano, che non vanno bene, che sono offensive». E lei si è scusata dicendo che non era sua intenzione e che non voleva farlo, o almeno questo è quello che ho capito mentre le tenevo la testa nel cesso. Sì, ok, ok, con la violenza non si risolve nulla, ma io sono grassa, non sono Matt Magandi. Sì, ecco, ma più di tutti, più di tutti, signori e signori di Pinerolo, io stasera, mi piace proprio la parola Pinerolo, non so se si sente, io stasera ce l'ho con una categoria in particolare con cui voglio parlare, proprio come se fossimo quasi amici, nemici e amici. Come posso dire? I campioni mondiali di tabù, gli amanti dei vezseggiativi, quelli che al posto di utilizzare la parola grassa usano qualsiasi altra parola e schivano la parola grassa come faceva Alberto Tomba ai mondiali. Grassutella, Grassottella, Pasciutella, Paffutella, Incarne, Rubiconda, Rubiconda, ma chi sei la Treccani? Cioè, ma grassa, magra, grassa, alto, basso, è uguale, no? Ma che poi anche tutta questa smana di dare le etichette alle persone costantemente, cioè, quanto sarebbe bello se io fossi semplicemente Serena, se questa signora è in prima fila, lei come si chiama? Gianna. Gianna, Gianna, bellissimo, se Gianna fosse semplicemente Gianna, lei signora? Serena. Veramente, mi sta prendendo in giro, no? Serena, Serena, ecco il nome, questa è la prova che abbiamo il nome più bello del mondo. Serena, se io fossi solo Serena, se la signora fosse solo Serena, se Gianna fosse solamente Gianna. E invece no, non funziona così, perché usciremo da qui e ogni giorno troveremo tantissime persone per strada che ci dovranno sempre far notare quanto non andiamo bene, siamo troppo magri, siamo troppo grassi, siamo troppo... Ecco, in questo caso, consiglio. Quando le incontrate, quando queste persone vi diranno queste cose, voi alzate la mano destra. Fatelo, fatelo, alzate la mano destra. E date una carezza a queste persone. E dite che questa è la carezza di Serena, di Gianna. E poi alzate la mano sinistra. Fatelo, fatelo. E tirate loro una bella pizza, dicendo che invece questo è da parte di tutte le persone grasse. Grazie! Serena Bon Giovanni!